Essere cristiano non anestetizza il dolore, ma permette di viverlo nella speranza che Dio ci donerà una gioia che nessuno ci potrà togliere. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo del Giorno, nel quale Gesù, prima della sua passione, avverte i discepoli che saranno tristi, ma che questa tristezza si cambierà in un grido di gioia. E usa l'immagine della donna quando partorisce. È nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato la luce il bambino non si ricorda più della sofferenza. Questo è quello che fa la gioia e la speranza insieme nella nostra vita quando siamo nelle tribolazioni, quando siamo nei problemi, quando soffriamo. Non è un'anestesia. Il dolore è dolore. Ma ha vissuto con gioia e speranza ti apre la porta alla gioia di un frutto nuovo. Questa immagine del Signore ci deve aiutare tanto nelle difficoltà. Difficoltà tante volte brutte, no? difficoltà cattive che anche ci fanno dubitare sulla nostra fede. Ma con la gioia e la speranza andiamo avanti perché dopo questa tempesta arriva un uomo nuovo come la donna quando partisce. E questa gioia e questa speranza Gesù dice che è duratura che non passa è una cosa che è lo stesso. Gesù c'è la sua non c'è la sua cosa che è una cosa che è la sua che è la sua cosa che è la sua